Esce di scena in gara 2 dei quarti di finale una generosa Sieco che solo nel terzo set, perso a 23, ha inserito il Dorante Cantagalli, a riprova ancora una volta di una stagione, l'ennesima, tanto sfortunata quanto entusiasmante, a lungo Ortonesi primi in solitaria testa della classifica, va ricordato. Contro il Siena l'impavida ha lottato finché ha potuto, cedendo in ogni frazione alla distanza e tentando nell'ultima di riaprire una gara spesso sul piano dell'equilibrio, ma i toscani, guidati prima da Massari, poi da Romano, hanno fatto prevalere la forza di un organico costruito per tornare in Superlega. Così i ragazzi di Lanci, che meritano solo applausi, hanno dovuto ammainare bandiera bianca, non senza rimpianti, su tutti la mancata opportunità di arrivare in finale di Coppa. Tant'è, resta la soddisfazione del nono anno consecutivo di A2, sperando di ripetersi e festeggiare la decima stagione.